Senato! 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 Eccole qua, professore Aiuti, la signora Menzer. Lascio il microfono al professore Aiuti perché so che voi già vi conoscete e avete molte cose da dire. Io devo dirvi una cosa che mi appena ora dirla perché da una parte è uno scopo che mi consente finalmente di mettere al mondo una verità. Dall'attore di un palazzo, il signore Eternato Aiuti, ogni tanto riceve nel suo cellulare una mia chiamata che sono sempre nei molti interventi. E devo dire che marcabilmente tutte le volte che lo distruggono per andare a trovare qualcuno che ha chissato di lui, lui marcabilmente e fungualmente va a trovare come una casa e mi gira fuori da questa... C'è una lettera in particolare che ho ricevuto qualche tempo fa che mi arrivava a dare figlia da parte di un cancellato che purtroppo era sofferenza di AIDS. E mi scriveva nella lettera che siccome non riceveva un contributo visivo nella sua palazia, non c'era nessuno che si interessasse a lui. E' la risposta a uscirsi la bocca con ago e filo per protesta, per un segno di protesta nei confronti del caccio. Eternato è andato lì, non è andato a trovare, non solo, ma credo che stia combattendo una battaglia molto importante. Di pari modo che queste persone che si trovano nei caccio, che avranno a buon conto scontato una pena, ma la devono scontare un'altra, molto più grande. Quindi siamo d'accordo che si sarà da parte delle operazioni per cercare di recuperare queste persone, anche se in un luogo di pena hanno anche loro diritto ad essere curati. Vedrò sicuramente a prendere aiuti puntuali come sempre. Grazie a tutti. 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 Forse è il caso che me ne vada io. Questo è per parlare. Lascio questo microfono per parlare a Amy Stewart e vi lascio suoni perché siete già una nutrita rappresentante. Grazie a tutti. 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 Grazie.